Ma non è la stessa persona ovviamente, erano due cooperazioni diverse. Chi le aveva queste? Un banchino tuo algerino, qualcosa del genere. Perfetti, dove le metto? Non si capisce. Questi arrivano tutti da Napoli, arrivano da Napoli. Ma forse nemmeno da Napoli, da queste zone. Non si capisce. Fino alle 9. Diciamo sì. Per le edizioni di dopodomani. Sì, sì. Questo non lo so, ma c'è da qualcuno a questo, non lo so. Credo di sì, ma non lo so. Siamo arrivati nel CD e basta. Muova di moda Gangnam Style. Questo. Eccolo. Le cambiamo un po'. Ok, posso vedere. ...delle ore 13 a 18, è il marco ordinario 4. Attenzione. ... ... ... ... ...